Finisce adesso la partita contro Brembo Devo dire che il risultato forse non rispecchia la nostra prestazione Veniamo un po' da una settimana un po' difficile con purtroppo altri infortuni Quindi eravamo un po' a ranghi ridotti Ma devo dire che le ragazze stasera ci hanno messo veramente tanto E come si può vedere dai due parziali molto combattuti Qualche rammarico sul finale del set perché comunque si poteva fare quel qualcosa in più in quel momento Però tanto non erano le ragazze che hanno dimostrato che la voglia c'è E una bella partita Possiamo essere soddisfatti stasera